Musica 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 Eccolo Eccolo la nostra amica Ciao Ti chiami? Manuela cosa vuole fare? Jolly o senza? 3, 2, 1 Langlo E te lo sei chavato abbastanza bene sulle gomme dentro e salto ipini perforzai e tu puoi alzare bene i piedi la palla, la palla, ripiglia, ripiglia intanto Armando arriva fin qui con un boom guarda gli ultimi due di Rilly e ce l'ha in calda puoi posare il piccaio a cimentarti sul percorso dell'asta forza, brava forza e insomma, buona sola penalità andiamo al limbo, vediamo come te la cavi togli le pinne attenzione a non far cascare il bicchiere per terra brava, brava vai a posare tutto e stop al tempo cosa è successo? 4-6-1, non devo fare un evento allora, nostra vita 1-31 nella media, nella media grazie a tutti grazie a tutti All right!